E' stata una vera e propria serata da record, quella vissuta lo scorso 29 settembre in Ghirada, voluta dalla FIPAV Comitato Provinciale di Treviso. Protagonista del corso aggiornamento per dirigenti e società, il dirigente sportivo e per 18 anni presidente del Comitato Provinciale di Padova, figura conosciutissima nell'ambiente pallavolistico veneto Stefano Camporese, che ha presentato agli oltre 180 presenti la figura del dirigente accompagnatore. Molti gli spunti e le domande che sono state poste a Stefano Camporese, che ha suscitato grande attenzione verso un pubblico da record a corso per questa serata voluta dalla FIPAV di Treviso. Non vi nascondo una parte di emozione personale perché da quando siamo presenti da due anni circa, almeno non era mai capitato, forse escluso la stessa definizione, di vedere tanti dirigenti presenti in una serata dedicata a voi. E questo vuol dire che Stefano aveva seminato bene nella prima puntata, il verbo, e logicamente questa sera ha completato il percorso che aveva iniziato 15 giorni fa. E in questa serata è emerso come la figura del dirigente accompagnatore sia veramente una pedina importante all'interno delle nostre società, sia sotto l'aspetto organizzativo e sia sotto l'aspetto logistico. Una vera e propria figura di riferimento per gli atleti e per lo staff tecnico, essendo anche lui parte integrante di una squadra vivendo quotidianamente le realtà della palestra. Noi ci auguriamo che Stefano continui a studiare le società di pallavolo, perché so che continua a seguire il pallavolo, avete capito che è preparato perché anche io che se ne si è guardato l'ultimo partito. Grazie. 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 Grazie.